una grande punta sesso con ben 10 con ben 10 persone no ragazzi 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 vedo un attimo dopo ti faccio vedere la clip del secolo vecchio che ho fatto con dei miei amici aspetta che finisce il fuoco oh oh ha funzionato sono un genio ragazzi e anche questo e anche questo e forse però questo lo dovremmo eliminare e purtroppo credo che è anche questo perché è un po' troppo ciotto e strano tanto grazie a smattico per la sub regalata a lisa aquila benvenuta ragazzi è vostro incubo il signor il signor neppo è il problema che è fear siiii ok madonna cosa ho appena fatto cosa ho appena fatto ragazzi io mi sento un attimo pro scusate volfi ti ho ti ho letteralmente no ecco ecco no qua però guarda come mi prende per il culo guarda come ti scombo malissimo si madonna io ci godi quattro ieri devi questo della venga qui nella rampa di lancio vuole visto già una tentatore di sopra allora Allora Il primo che entra da quel buco che non Partito No aspetta che ho aperto un'altra cosa che sbaglio no no Ma non ci credo ma poteva capitare uno su un milione che tu spacchi un blocco al random e cade lui del buco Allora voleva rifarlo dai guarda eccolo La clip di questo io ho fatto una clip Vieni qua stupido stupido e decidi Andi salvo l'Italia è una repubblica democratica fondata sul prosciutto crudo Questo ragazzo Non ci credo al loco loco porco dio ma no il palattone Ma non ci voglio credere Questo ragazzo Ancora lì sta sto imbecille Imbecille Ma sei caduto nell'acqua ma guarda poverino guarda non puoi uscire quanto sei sfigato Vieni qua a rompere con la tua balestra marcia poi rimani incastato nell'acqua Sarai lì incastato per il resto della tua vita guarda Sicuramente non ti faccio uscire io ma poi quanto sei imbecille basta che ti giri ed esce dall'altra parte Guarda siccome sei così stupido Ho deciso che sarebbe meglio che tu morissi così non soffri per il resto della tua vita Ok Guarda Ecco Addio Tipo i maiali Vieni come vieni qua 80 120 Aia 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 Refresh Refresh La safe la safe la safe gira 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 Mi devo curare mi devo curare mi sto curando Mario Ah 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 dietro ah 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 no 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 bimboio 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 Oh diamanti 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 Buio oh mi sono brillato mi sono brillato Ho trovato più diamanti loro No sono morto sono morto sono morto sono morto Ho chiuso C'è raga Io lo sento che ce l'ho qua dietro di me Me lo sento grossissimo proprio Della serie aiuto Il signore delle tartarughe ninja Ah ma ci dice che ne mancava uno di calciatore grazie Ah 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 Voi, persone tristi senza una vita Eh, risponde lui Perché rispondi, non dica parlo con te, rincoglio, cioè, proprio, veramente Ma questo dorme Ma questo dorme Stai giocando? Non hai capito che c'è uno che mi ha seguito, sento per insultare la valentine Erika Questo ancora tu non hai capito? Mi sa che è stata bannacarla Bella che è lì Ma quanto maturità ha fatto la gente